Siamo saliti al faggio, questo sembrava un edulis a prima vista però vedendo il fratellino anche direi che è un estatino anche lui, vediamo com'è, eh dai da seccare, si salva, poteva essere peggio, stiazzi, tanto fumo, speriamo di ribeccarci dopo, ciao Ste, hai preso la retina, forza hai riempito il cesto, che devo fare, fammi vedere che raccoggi quello lì, ce ne metto uno solo, uno solo perché non basta, dobbiamo tornare che piove fra un po', per uno, per uno non c'è stato, guarda, per uno com'è? eh dai oh ma cosa c'è lì? Il fratello ah, e due oh oh cos'è là? eh oh porca questo proprio aspetta appoggiali dai è pieno aiuto mamma mia che incredulis sicuramente sei rifugiato incredulis sei rifugiato è il fresco del tronco qua ma non sarà mica un fungo del legno il cano d'elma oh mi fa ti hai già scostato il tronco oh oh allora aspetta aspetta prima di cavare il tronco prendi quella massa di tamburo lì sopra aspetta questo è dolce che siamo dopo una buttata così incredibile mi sa che mi è capitata poche volte dicevano se ne è una quintalata no non è che ne sei dimenticato uno là sopra dai prendilo se non ce la fu più faccelo vedere si starà dentro bello lui si si vanno benissimo non c'è mica più posto qua eh no dammelo nell'aretina dai sennò si schiacciano tutti alla prossima oh rica non finiscono più eh oggi siamo arrivati anche ai castagni alti siamo oltre mille metri questo andrebbe rosato ma è duro perché mi ha fatti secco poi c'è un sasso sotto ecco perché è duro aspetta è ora che stai è un video sulla cavata del porcino la prossima volta porto il vanghino per i tartuffi si perché mi dispiacerebbe romperlo oh non l'ho rotto guarda che è bello guarda che fungo bello bello eh si mamma mia guarda i funghetti mi ha trovato il mio omo di san marino spettacolo spettacola house fede stasera tornerò tardi io tua mamma che arrivo un po' dopo per cena perché se volete i porcini qui tocca continuare a raccoglierli eh guarda che c'era la sorpresa di fianco no no l'ho rotto però vedi era bianco bianco si fai vedere sotto c'era il fratellino perfetto cazzo l'ho rotto e va bene ciao ciao prima vi avevo detto che il ritrovamento era stato il più bello della giornata mi devo ricredere perché il ricca il cavaliere il mitico solo insuperabile però questo al piede del faggio questo è proprio duro eh al piede non c'è un bacco insicurato boom di faggio ragazzi incredibile tanta roba il faggio non perdona il faggio non mi dà tanta soddisfazione esposizione a nord e le rocce ed eccolo che spunta eh questo sembra bello ma che ti sono dovuto fissare ha anche un bel gambo non è male sodo? tosto? massizio sembra quasi di quercia bello eh questo mi devo molto forse è più bello della giornata sì sì a mani basse Grazie a tutti.